Giovanni Cervero, un tassista che sta lavorando duramente. Allora Giovanni, noi non abbiamo scritto niente, però abbiamo visto un video che a Napoli ti avrebbero minacciato, diciamo, altri tassisti. Cosa è successo esattamente? I tassisti di Napoli non vogliono che altri tassisti da fuori vengano a caricare o a sparire. Ma il motivo c'è, nel senso che c'è un decreto del governo che minaccia di liberalizzare la categoria. E quindi vuol dire che chiunque può andare a caricare, scaricare, mettendosi in fila come un taxi locale. Quindi, non so, forse renderanno le licenze del taxi non più comunale ma probabilmente nazionale. Quindi c'è un motivo anche alla base. Un motivo c'è ed è reale. Il motivo anche perché probabilmente questo apre le porte a queste grandi multinazionali di trasporto che cercano di, attraverso l'Europa, ed ora l'Italia sta solo rispettando i diktati europei. In pratica, per liberalizzare tutti i trasporti, non so, Uber o altro. Questo è il vero motivo dello cielo. Grazie, grazie Giovanni. Noi prossimi anni ci siamo sempre dietro le notizie. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.